ok buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo video allora oggi vedremo come configurare il nostro pc per fare un po' di sviluppo web con windows 10 utilizzando solamente software gratuiti andiamo a vedere come fare allora partiamo con qua ho aperto microsoft edge che è il browser di default della microsoft che vi trovate già installato con windows 10 a me non piace molto cioè non è che non mi piace non lo so perché non l'ho mai usato perché sono tra 10 anni e anche più 15 che usa google chrome non so da quanto tempo dice google chrome ma l'ho sempre utilizzato mi piace molto di più e ho sempre usato quello vi consiglio di usarlo perché ha degli strumenti per sviluppatori niente niente male allora quindi scriviamo google chrome google ho anche sbagliato a scriverlo ma google è intelligente e lo capisce browser google chrome e ve lo scaricate ok scarica chrome installa seguite i passaggi accetto installa fate esegui ok così dovete risalvarvelo lo eseguire in automatico adesso io lo elimino perché l'ho già installato ecco qua che gentile chrome che ci ringrazia anche perché l'abbiamo scaricato prego google qua possiamo bloccare perché io ce l'ho già bene 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 continuiamo comunque se siete un minimo appassionato in informatica smanitato un pochino presumo che google chrome ce l'abbia già installato quindi non ci soffermiamo troppo andiamo ad aprirlo chiudiamo edge che non mi piace non lo so se non mi piace preferisco google chrome ho un tema scuro google chrome perché è un momento che sono particolarmente in pista con i temi scuri quindi avrò temi scuri dappertutto su tutti i software che vedete anche su windows il vero di google chrome è che fate tasso destro ispeziona ok c'è questo strumento per sviluppatori che è fantastico potete vedere come è stata strutturata la pagina a livello di codice vediamo qua subito il css abbiamo qua nella console la console javascript per vedere vari errori oppure fare delle prove ok farla funzionare in più possiamo andare a modificare direttamente il codice sulla pagina ok se io schiaccio qua mi sparisce l'icona di google perché ho tolto il background image ok posso addirittura andare a modificare istantaneamente vedete ho messo uno sfondo giallo bellissimo dovrei proporlo a google sarebbe molto più figo istantaneamente la pagina che visitiamo ok logicamente non è che la pagina rimane modificata e tutto il resto del mondo vedrà il mio giallo solamente io uso il mio computer ok però è molto molto utile se volete fare delle modifiche istantane o fare delle prove per vedere cambiare un css velocemente al vostro sito il secondo software più importante che ci serve oltre a un browser il browser logicamente sviluppiamo per web sviluppiamo qualcosa che andrà su un browser quindi ci serve un browser dopodiché ci serve un editor di testo ok cioè un software nel quale scrivere il nostro codice ok non possiamo scrivere tutto sul blocco note perché se guardate qualche tutorial di beginner per cominciare tante volte si parte con il blocco note ma è impossibile avere dei codici lunghi pesanti complicati su blocco note c'è da dare dei numeri allora ce ne sono molti molti usano sublim molti usano atom io personalmente uso visual studio vedete non c'è più scrivere code che è un software della microsoft ok praticamente solamente l'editor di visual studio visual studio è un software per creare software visual studio code è solamente l'editor cioè quello che permette di scrivere il codice senza nessuna libreria sotto framework sotto robe grandi pesanti sotto è molto leggero molto veloce ricchissimo di estensioni utilissime gratis e mi pare anche open source ma presumo non sono sicurissimo e veramente microsoft con questo ha conquistato tutti tanto che chi usa mac e linux anche usano visual studio code ok ci ha conquistato tutti anche gli hater di microsoft hanno riconosciuto che visual studio code è un gran bel software allora basta fare download for windows fate pure salva ok ora io ne ho già presi un paio poco fa ok quando lo lanciate basta seguire le varie istruzioni logicamente c'è la licenza qua il mio consiglio è di flaggare tutto ok in questo modo si creeranno icono sul destro va bene ma questa parte soprattutto aggiungere al tasto clic del tasto destro la voce apri con code ok che è fantastica comodissima vedremo dopo che servirà molto molto si rivelerà molto molto utile la cesta anche aggiunge a path così potete aprirlo dalla riga di comando senza problemi ok io non proseguo perché l'ho già installato ma fate avanti 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 ve lo installate e vedrete che è un software meraviglioso poi diciamo stiamo installando per windows 10 utilizziamo anche l'editor di windows non è male ok ci sta ci sta tutto molto 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 bene volendo uno potremmo anche finire qua ok se avete intenzione di creare siti in html css javascript siete a posto editor di testo decente come avviso studio code che è fantastico google chrome fine ciao a tutti baci baci se invece volete collegare al vostro sito un database utilizzare un linguaggio lato server implementare cose un pochino più pesanti nonostante oggi il javascript sia cresciuto a tal punto da quasi rimpiazzare i linguaggi lato server dovete installarvi un server locale sul vostro computer allora io utilizzo xampp va bene xampp andiamo a cercarlo comprende dentro di sé il server apash il php myadb il mysql php myadmin per gestire il database ok se ad esempio facciamola banale se volete sviluppare sito in wordpress vi serve xampp se volete utilizzare il php in generale utilizzando framework come l'arabel core in itero oppure anche qualcosa ricreato da voi custom da zero con core php vi serve xampp ce ne sono anche altre ma xampp a me piace moltissimo ok se invece volete sviluppare con programmi windows quindi con asp dot net queste cose qua non vi serve xampp dovete stare in ambiente windows ma diciamo che non è così è molto più diffusa sviluppo in php ok di recente poi inoltre adesso c'è il python che sta perdendo un sacco piede ma finché i grossi cms framework saranno fatti in php il php continuerà ad esistere anche se molti lo odiano allora scaricate xampp lo installate è molto molto semplice fate attenzione ok qua l'avevo già acceso chiudiamo fate attenzione a dove installarlo ok ad esempio io ho un computer con due drive un ssd da 128 che è piccolino però è sopravveloce e un hard disk da 1 tera che è grande ma è molto lento allora xampp l'ho installato su d perché? perché tutti i progetti che andremo a creare con xampp dovranno essere dentro la cartella xampp ok quindi se l'avessi creato dentro cxampp creavo un sito da 2 giga mi rubavo 2 giga dell'hard disk che non voglio che venga sprecato allora l'ho messo su d così ho un sacco di spazio posso anche buttarci giuro a caso fare esperimenti caricare giga di file a caso senza problemi una volta che avete installato xampp lo aprite e avete questa fantastica schermatina qua ci serviranno soprattutto i primi due servizi ok Apache e MySQL Apache è quello che permette di girare il php di far funzionare il php MySQL invece è il database allora faccio sapere start e start start cosa fa? lancia il server Apache il server Apache lo troviamo nel browser andando a scrivere localhost ok localhost adesso io ho già pacciocato un po' dovrebbe venirvi localhost dashboard la schermata di xampp io sono andato a paccioccare perché ho creato un po' di cose se scrivete localhost php myadmin php myadmin vi trovate questo che serve per gestire i vostri database che è molto molto semplice un software in php semplice graficamente non è bellissimo però funziona veramente veramente molto bene ok dove però andiamo a caricarli i nostri file perché vengono vissi su localhost allora dobbiamo andare nel drive dove l'avete installato quindi c o d va bene io vado in d come ho detto prima xamp dentro xamp c'è una cartella htdocs ok il mio consiglio è fare tasto destro su htdocs invia a desktop in questo caso vi trovate htdocs sul desktop potete raggiungere direttamente da lì e qui adesso ho tutti i progetti che ho creato in php creiamone uno nuovo cerchiamo questo e lo ricrediamo allora nuovo cartella chiamiamolo tutorial ok qua quello che ho detto prima di flaggare tutti i check di visual studio code perché tasto destro open with code e ci apre direttamente questa cartella la cartella del progetto è con visual studio code andiamo a creare un file solo per vedere che il server funzioni diciamo che il php comincia e finisce qua diciamo di stampare la scritta ciao salviamo adesso quindi la cartella si chiama tutorial dentro la cartella htdocs ok la cartella htdocs corrisponde al localhost va bene quindi localhost slash tutorial e dovremmo vederci iscritti ciao eccolo qua ciao se adesso andiamo a scrivere spazio come va come va perfetto possiamo anche scriverlo direttamente senza darmi il php però così abbiamo anche testato che il php funziona ok possiamo anche fare così wow questo è un po' più alla grande almeno vediamo tutte le informazioni del php il php è installato perfettamente ok così abbiamo possiamo creare siti html javascript css php collegarci addirittura un database e il rosso è fatto cosa ci manca ancora ora ci manca il parte finale quando il sito è stato creato caricarlo su un hosting online allora per fare questo io vi consiglio un software che si chiama filezilla ok penso che sia il più utilizzato in assoluto è gratis è molto semplice dovete scaricare questo ok filezilla client ok questo qua download download per zilla client per windows logicamente stiamo facendo tutto quanto per windows download lo scaricherà nella cartella dove volete doppio clic avanti 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 e vi installa questo programmino qua ok qua è molto semplice con i dati del vostro hosting lì inseriti la maniera più semplice inserirli qua l'host nome utente password la porta allora l'host di solito è ftp.nomesito.it nome utente password sono quelli che vi ha dato il vostro gestore dell'hosting la porta assolutamente la 21 fate connessione rapida ok adesso mi connetto sul mio albertoreneri.it ok qua poi basterà questo è l'hosting da questa parte sulla destra basterà selezionare i file che vogliamo caricare sull'hosting spostarli qua ok adesso magari non facciamo facciamo in una cartella che non mi interessa ok spostarli qua dentro la cartella img papapapà ecco qua e su img io adesso ho index.php ok e lo vedo online proviamo ad andarlo a beccare smash.pmg dovrei prendermi eccolo qua vedete quello che avevamo in locale me l'ha tirato su cancelliamolo sì torniamo indietro chiudiamo ok così abbiamo tutta la base per poter operare creare qualche sito internet e programma web ci manca una cosa fondamentale però i siti non si fanno solo di codice c'è anche la parte grafica di un sito ok e qui stare sul free non è così semplice io utilizzo ho trovato questo programma qua che si chiama figma che sinceramente lo adoro è fantastico è gratis ok bisogna fare try figma for free potete anche registrarvi con l'account di google dopo di che potete usarlo sia nel browser sia scaricare il programma io scarico tutto il programma perché sono un po' la vecchia maniera mi piace avere le cose scaricate funziona soltanto se sia online ok se vi salta la connessione non potete disegnare ma è un piccolo prezzo da pagare per un grande software tanto ormai online ci siamo sempre di continuo ed è un software favoloso veramente permette di creare il layout dei vostri siti web in maniera rapida è veloce e alla pari di sketch e di adobe xd ok comunque è completamente gratis potete lavorare in più persone istantaneamente sullo stesso progetto potete fare prototype potete condividere il progetto per farlo vedere al cliente ed è fantastico tant'è che io da quando utilizzo figma photoshop quasi che non lo uso più ok ce l'ho ancora installato lo uso ancora perché per molte cose sono legato al programma e lo conosco bene faccio veloce utilizzarlo però con figma faccio veramente tantissimo un sacco di cose si può esportare in vettoriale esportare in jpeg png si può fare veramente di tutto vi consiglio di provarlo che è un grandissimo software e con questo direi che il nostro pc è configurato per poter iniziare a creare qualche siterello internet pacciocato un po' non preoccupatevi se non conoscete tutto questa era solamente una carrellata spero di non avervi spaventato troppo non aver buttato troppa carne al fuoco ma con questa configurazione è possibile iniziare a creare siti internet decenti anche roba abbastanza grande grazie a xant e php ok molto bene grazie per aver visto questo video alla prossima ciao ciao